ben trovati gentili telespettatori a questa nuova edizione di tgm il telegiornale di media 24 che apriamo subito con le notizie di cronaca un ragazzo di 20 anni è stato soccorso nella prima serata di ieri poco dopo le ore 20 in via dei campi a gradisca di sonzo a seguito di uno scontro di gioco avvenuto durante una partita che si è disputata nell'area degli impianti sportivi sul posto sono intervenute un'automedica ed una autoambulanza provenienti da gradisca di sonzo e da gorizia il giovane è stato stabilizzato intubato e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di catinara è il nucleo ispettorato carabinieri del lavoro di udine con la collaborazione dei militari delle compagnie di udine palmanova e latisana nell'ambito di controlli contro lo sfruttamento del lavoro ed il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ha svolto controlli in diverse aziende nel settore dell'agricoltura del commercio e dei servizi alla persona verificando la posizione di 17 lavoratori a seguito dell'esito dei controlli che hanno consentito di individuare più di una violazione sono state sospese le attività di due centri massaggi uno di lapisana e uno di cassacco di un esercizio commerciale di cassacco e di un'azienda agricola di chiopris viscone alle tre ditte sono state combinate sanzioni per un ammontare complessivo di 60 mila euro indagini sul lavoro anche a porterone questa volta da parte della guardia di finanza che ha individuato 11 lavoratori in nero nel corso di sei interventi uno è stato individuato in un centro di massaggi orientali e un altro in una postazione itinerante di vendita di vasti di terracotta nel capoluogo a fiume veneto ne è stato individuato un altro in un bar e altri due lavoratori sono stati scoperti questa volta assieme ai funzionari dell'ispettorato territoriale del lavoro di Udine e Pordenone in altrettante pizzerie di Maniago e Sacile ben otto invece ne sono stati trovati tra le vigne di caneva intenti alla raccolta dell'uva il folto gruppo di vendemmiatori dei quali quattro clandestini di cui uno anche con un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Torino era composto da pakistani ed indiani ed erano alle dipendenze di una ditta gestita da un altro straniero che aveva siglato un contratto d'appalto con una proprietà del vignetto per tutti è stata disposta la sospensione dell'attività oltre ad una maxi multa maggiorata del 20 per cento per l'azienda che impiegava i braccianti clandestini a seguito di una collutazione scaturita della serata dello scorso 23 settembre tra la barista del caffè noir di via dei serviti a Porcia ed un cliente 26enne allargatasi poi anche ad altre due persone dove solo l'intervento di due passanti ha limitato le conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi il questore della provincia di Pordenone ha disposto alla sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di 10 giorni il provvedimento è stato notificato nella mattinata odierna dal personale della polizia amministrativa e di sicurezza della questura di Pordenone ed è stato presentato questa mattina a trieste il bando che riguarda l'efficientamento energetico e idrico a favore dei comuni e delle società sportive del friuli venezia giulia le quali possono incominciare ad inviare le domande di partecipazione a partire dal 14 ottobre sentiamo l'assessore Fabio Scocci Marro Assessore Scocci Marro oggi la presentazione alla società sportive di un importante intervento sull'efficientamento energetico e idrico che porterà a una riduzione dei consumi si chiariamo che una fase sperimentale durerà fino a dicembre poi verrà ovviamente visto il riscontro è messo in finanziare al prossimo anno un importo ovviamente più importante è rivolto le società sportive ma anche i comuni che vogliono fare efficientamento di energia quindi piatti fotovoltaici cappotti e quant'altro per le società sportive e anche efficientamento dal punto di vista idrico risparmio idrico accumulo di acqua piovana soprattutto le due cose devono essere fatte insieme non una delle due quindi va nel senso di diminuire le bollette in qualche caso se si riesce anche a annullarle con questo contributo che può essere di 100.000 euro per ogni società sportiva oggi viene pubblicato l'avviso sul gazzettino sul Burr fra 15 giorni il 14 ottobre alle 8 di mattina c'è il click day ovviamente l'intenzione è quella di tenere aperta la classifica e poi rifinanziare appunto quanti ne avranno bisogno la giunta comunale di Fossalto di Portoguaro ha approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento funzionale ed impiantistico della biblioteca comunale progetto che è stato finanziato con il contributo statale assegnato al comune nel 2021 l'opera prevede l'adeguamento impiantistico ai fini dell'acquisizione del certificato di prevenzione incendi il rifacimento dei servizi igienici delle pavimentazioni la sostituzione dei seramenti e i nuovi arredi i tecnici e le imprese individuate da zignago daranno avvio ai lavori presso la biblioteca entro la fine dell'anno gli uffici della stessa saranno trasferiti nel periodo necessario a completare le opere presso l'ex sede di lta in via zanier locali che il comune ha in convenzione con la società stessa a ottobre prende il via l'edizione 2022 del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che dal 2018 è diventato annuale che coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie a portenone saranno 2300 le famiglie chiamate a compilare il questionario 1400 di queste riceveranno per posta dall'istat le credenziali per l'accesso alla compilazione online che sarà possibile nel periodo dal 3 ottobre al 22 dicembre mentre altre 8 e 50 previo appuntamento riceveranno dal 30 settembre al 17 novembre la visita di un rilevatore incaricato dal comune munito di apposito cartellino di riconoscimento si ricorda che per le famiglie selezionate la partecipazione al censimento è obbligo di legge il commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la 4 venezia trieste ha avviato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la costruzione di aree di sosta per mezzi pesanti in adiacenza alle aree di servizio di frata nord e frata sud lungo l'autostrada complessivamente nelle due nuove aree sono previsti 161 stalli a disposizione dei mezzi pesanti mezzi frigoriferi e camper l'opera è finanziata coi fondi propri di autovie venete la scadenza per la presentazione delle offerte della gara visibile sul sito www.commissarioterzaconsia.it al percorso appalti bandi e avvisi è prevista per martedì 22 novembre alle ore 12 qualora la gara si concludesse positivamente l'operatore economico che risulterà vincitore avrà 120 giorni per la progettazione e quindi dopo la verifica e l'approvazione del progetto esecutivo 245 giorni per effettuare tutti gli interventi sabato 24 domenica 25 settembre si è svolto a cloud nella sala convegni dell'albergo dolomiti sperio 2022 il convegno regionale di speleologia del friuli venezia giulia è stato un fine settimana all'insegna dell'esplorazione e dello studio delle grotte con una nutrita partecipazione l'obiettivo della manifestazione era quello di stimolare lo scambio di informazioni tra i vari gruppi e le associazioni speleologiche e diffondere anche ai non adetti ai lavori i risultati delle esplorazioni e delle ricerche scientifiche nel mondo sotterraneo è stata anche l'occasione per annunciare il collegamento di una nuova grotta al complesso del colciavat sulle dolomiti friulane alla profondità di 150 metri adesso raggiungibile in mezz'ora anziché le cinque precedenti milena pescarolo e la nuova presidente del carnevale dei ragazzi di ceggia l'elezione del nuovo direttivo dell'associazione sgombra ogni dubbio rispetto ai venti di crisi paventati da più parti arrivati persino a mettere in dubbio l'organizzazione della prossima edizione 2023 quella della ripartenza dopo due anni di stop per la pandemia e soprattutto quella del settantennale del carnevale più conosciuto del veneto orientale la protezione civile del friuli venezia giulia ha emesso un avviso di alerta gialla sino alle ore 15 di domani 29 settembre la depressione presente sull'europa centrale infatti continua a far affluire correnti umide ed instabili da sud ovest tra questa sera e la prima mattinata di giovedì passerà un primo fronte seguito da un secondo fronte nel pomeriggio di giovedì sono previste piogge intense forte vento su tutto il friuli sud orientale sabato e domenica a Vila Ivancic uno dei più apprezzati fiori all'occhiello del comune di san michele al tagliamento apre le porte ai visitatori proponendo loro due giornate ricche di incontri culturali percorsi espositivi ed eventi in cui la letteratura l'arte e le atmosfere della bella epoca saranno al centro dell'attenzione del programma ce ne ha parlato l'assessore alla cultura elena zupichin benvenuti siamo nel maestoso scenario del complesso di Vila Ivancic è uno straordinario pezzo del territorio del comune di san michele al tagliamento ricco di storie di suggestioni costruito e fondato alla fine del XVI secolo dalla famiglia Mocenigo poi passato in proprietà a una famiglia imprenditoriale d'affari padovana con l'acquisto di Vincenzo Biaggini e ora di proprietà degli Ivancic per l'ascito ereditario siamo qui perché stiamo predisponendo gli spazi dei giardini per aprirli per due giorni per un intero fine settimana a visite guidate a percorsi espositivi a incontri culturali e anche musicali per poter appunto permettere a tutti di godere di questa straordinaria bellezza e anche della ricchezza del patrimonio storico e delle storie che stanno dietro questa proprietà infatti in questo contesto sono passati nomi della cultura di straordinaria notorietà e forza da Ezra Pound a Ernest Hemingway ma in passato questa villa e le persone che l'hanno abitata sono state in relazione con nomi della potenza suggestiva di Gabriele D'Annunzio o di Antonio Fogazzaro che è il protagonista dell'edizione delle giornate in villa Ivancic di questo 2022 infatti il titolo di questa manifestazione è giornate in villa Mocenigo Biaggini Ivancic Iole Moschini Biaggini il lungo sogno di Antonio Fogazzaro le inquietudini di un secolo alla fine e la nascita di un grande romanzo venerdì 30 alle ore 18 in sala consigliare ci sarà la presentazione della manifestazione con la presenza e anche con l'introduzione dei componenti della famiglia Ivancic e con la proiezione di un bellissimo documentario realizzato dagli allievi e dagli studenti di un liceo di Treviso proprio sulla figura di Iole Moschini Biaggini che fu legata da un affetto profondo ad Antonio Fogazzaro e che divenne anche in virtù di questo forte legame la protagonista di Piccolo Mondo Moderno uno dei romanzi più importanti del del nostro ottocento sono due giornate di eventi ad ingresso gratuito ci saranno conversazioni letture reading musicali letterari laboratori percorsi espositivi di storia e arte e visite guidate visite guidate alla mattina al pomeriggio per tutto il sabato per tutta la domenica il sabato sera in sala consigliare municipio ci sarà anche la proiezione di uno spettacolo di proiezioni curato dall'associazione di cinema un'estate violenta di Portogruaro il sabato e la domenica invece le due giornate cominceranno la mattina alle 9 con la colazione letteraria a cura del teatro dei pazzi in cui saranno realizzate poesie racconti musica con accompagnamento di caffetteria e biscotteria ci sarà un appuntamento domenica mattina con la direttrice della fondazione musei civici di venezia la dottoressa chiara squarcina che ci parlerà della storia del costume essendo lei direttrice del di palazzo mocenigo che sede del museo del costume del settecento veneziano il pomeriggio della domenica avremo un altro ospite illustre il professor piero luxardo curatore del carteggio fra iole biaggini antonio fogazzaro che ci narrerà di questa liaison sentimentale tanto importante per la letteratura luxardo fra l'altro è anche l'erede discendente proprietario della fabbrica del maraschino luxardo che ha già di suo una storia altrettanto straordinaria da raccontare la guida flavia geremia per le due giornate ci accompagnerà nel percorso dalla serenissima ai salotti letterari imprenditoria femminilità storia cultura e affetti nella suggestiva cornice di villa mocenigo biaggini ivancice un altro importantissimo appuntamento che si terrà sia il sabato alle ore 17 sia la domenica alle ore 11 e con alcatraz laboratorio delle arti che ci propone un testo dedicato e inedito sulla storia appunto di iole moschini biaggini voci e melodie in ricordo di iole moschini biaggini reading teatrale con musica dal vivo vi aspettiamo quindi il primo e il 2 di ottobre in villa ivancice a san michele al tagliamento e a portanone dall'1 all'8 ottobre ritornano le giornate del cinema muto ad inaugurare la rassegna al teatro verdi sarà l'anteprima assoluta della nuova coppia di lo sconosciuto di todd browning anche quest'anno è stato confermato il gemellaggio con la vicina saccile dove le giornate avranno un prologo il 30 settembre al teatro zancanaro con la proiezione del film up in mabes room tanti titoli in programma ad ogni modo il calendario completo delle proiezioni in sala e streaming e le modalità di accredito e di acquisto dei e apriamo la pagina sportiva organizzate dall'european ultimate frisbee con il supporto logistico di extra dry venice l'unico soddolizio della specialità della provincia di venezia dal giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre ritornano a caorle all'interno dell'aviosuperficie alicaorle le fasi finali dei campionati europei per club di ultimate frisbee e questa è la terza edizione che si disputa in rival adriatico dopo quelle del 2017 e del 2019 sui 15 campi allestiti 12 all'interno dell'aviosuperficie 3 sul terreno del poco lontano campo sportivo di san giorgio di livenza si affronteranno le migliori 58 squadre europee suddivise nelle categorie open women e mixed per un totale di circa 1200 giocatori provenienti dalle più svariate nazioni europee numeri che bastano ad animare la località turistica veneziana a stagione balneare ormai conclusa a rappresentare l'italia si sono qualificate sei squadre tre delle quali del cus bologna 2 il cotarica rimini ed il cus bologna la fotta nella categoria open maschile mentre sono quattro le rappresentative femminili quali cus bologna citas il cus bologna shout il cus padova e il discopolo di ponte vecchio bologna orfanate italiane invece la categoria mixed e contro la rovescia a bibione per la bibione run la 10 miglia giunta la sua ottava edizione l'evento omologato fidal con partenza alle ore 15 e 30 e arrivo in piazza fontana quest'anno coinciderà anche con i campionati italiani dei bancari ed assicurativi domenica mattina invece alle ore 10 e 30 andrà in scena la bibione in rosa la grande manifestazione tutta al femminile il cui ricavato al netto dei costi organizzativi sarà destinato a sostenere le attività di prevenzione e diagnosi precoce della lilt la lega italiana per la lotta contro i tumori molto bene della questa la nostra ultima notizia vi lascio adesso alla previsione del tempo grazie per averci seguito e vi rinnovo l'appuntamento per le prossime edizioni grazie a tutti grazie a tutti